Popolo rossonero, popolo del bandito, buon mercoledì pomeriggio, voglio iniziare questo video in una maniera diversa oggi, adesso ci arrivo, prima vi chiedo un like al video, è molto utile, è molto importante per il canale, come è importante l'iscrizione, se state guardando il video da Instagram, passate su YouTube e iscrivetevi al canale e la campanella per le notifiche, per ricevere i video è tutto gratuito, vi ringrazio a prescindere, vorrei iniziare questo video con un ricordo, il ricordo di Vanessa Ballan, è stata uccisa dal suo compagno, suo marito, aveva un bimbo di 4 anni e uno in arrivo, perché ricordo Vanessa Ballan? Perché per lei non ci saranno sacerdoti e sacerdotesse del patriarcato, non ci saranno cortei, non ci saranno manifestazioni, non ci saranno funerali a reti unificate con la presenza delle maggiori istituzioni di questo paese, non ci saranno inviti da Fabio Fazio, dei parenti o interviste quotidiani, quotidiane o presentazioni di libri delle nonne. E allora siccome tutto questo per Vanessa Ballan non ci sarà, perché probabilmente ad oggi non sapete neanche cosa è successo a Vanessa Ballan, mi sembrava giusto cominciare il video così. Questa è la dimostrazione di come ci portano a spasso, di come scelgano dove indirizzare, come indirizzare tutto ciò, ovviamente con tutto il rispetto per quello che è la povera Giulia, come della povera Vanessa, ma di Vanessa non parlava nessuno e allora ho deciso di farlo io. Ci portano a spasso e ci portano a spasso anche nello sport, nel calcio. Avrete visto che su due temi in particolare ho notato oggi l'intervento del giornale Rosa, fornitore ufficiale. Uno sullo stadio di Rozzano ed è ovviamente un modo per distogliere l'attenzione da Zanga e dai suoi problemi, semplicemente cosa lo dimostra? Lo dimostra il fatto che Zanga non può decidere niente in questo momento, semplicemente perché non sa se fra tre mesi sarà ancora, avrà ancora in possesso, sarà ancora in possesso delle azioni dell'Inter. Quindi cosa volete che decide? Dello stadio, del progetto, cosa volete che decide? Cosa volete che decide? Ma come fate a farvi portare a spasso in questa maniera? Come fate a non capire che in questo momento non può decidere nulla? Figuriamoci se può decidere sulla costruzione di uno stadio che è un progetto che almeno ha davanti sei, sette anni. Che sondaggio volete fare? Biasin, che sondaggio vuoi fare? Biasin, ma quale sondaggio vuoi fare? Ventriloco di ausilio, quale sondaggio progetto vuoi fare? Cosa proponi? Cosa ti accodi a queste bassezze mediatiche? Ma che progetto vuoi fare? Che non sai se fra tre mesi hai ancora in mano le azioni, o se sono in tribunale, o se sono in mano di qualcun altro. Quale progetto stadio di Rozzano? Ma quale? Basta prenderci in giro, basta, siamo stufi di farci prendere in giro da voi. Quindi questo ho messo a posto. Poi siccome c'è la questione Superlega con domani la decisione, allora a chi vanno a intervistare loro? Beh, giusto, uno, un leader del calcio dei poveri, Karl-Heinz Rummenigge, leader del calcio dei poveri, ha detto che il calcio non deve essere solo dei ricchi, deve essere anche dei poveri. Infatti è famosissima la povertà del Bayern Monaco che grazie alla dittatura vigente vince tutti gli anni in Germania e compra chi vuole, quando vuole, dove vuole. Il famoso calcio dei poveri del Bayern di Monaco. Ecco, io non lo so come finirà domani, non lo so, non lo so. Ma io penso che se il calcio vuole avere ancora una speranza, il calcio europeo, il calcio italiano, tutte le istituzioni vadano abbattute, tutte dalla FIFA alla UEFA, per non dire la federazione italiana gioco calcio e ci vuole proprio una rivoluzione totale e potrebbe essere questa scossa della Superlega il primo passo, anche se dubito, dubito che in questi mesi non si sia lavorato a livello di lobby per ottenere l'ennesimo risultato che sarebbe la pietà tombale sul calcio europeo, ma il calcio italiano è già bello che è andato. Passiamo al campo, passiamo al campo allora, Ibra, Ibra Milanello, adesso vedremo, scopriremo, capiremo cosa avrà detto, cosa avrà fatto, come si sarà mosso. Pobega decide di, anzi decide, Pobega si deve operare, è incredibile. Allora, Calabria, lo ripeto perché è talmente incredibile che bisogna ricordarselo e non dimenticarselo, Florenzi. Ciao, Calulu, Pobega. Calulu, Florenzi e Pobega si sono dovuti operare. Per ciao e Calabria dai 3-4 mesi, 3 mesi diciamo. Pobega, se andrà bene l'operazione, lo rivedremo aprile-maggio, quindi stagione belle che è finita per Pobega. Ieri parlavo della emergenza clamorosa che oltre alla difesa, a questo punto avremo anche a centrocampo. e incrociate tutto quello che potete, toccate tutto quello che potete. Stamattina sono girate voci su un nuovo problema per Benasseri, io mi auguro che siano solo voci e spero che dal Milan esca il più velocemente possibile una smentita. Anche se oggi ne sapremo qualcosa in più perché Benasseri dovrebbe partecipare a un incontro con i tifosi a casa Milan, perché io spero proprio che siano frutto di fake news, quindi lasciamo stare. Mettiamola da parte finché non avremo notizie ufficiali. La notizia sicuramente ufficiale è che Pobega andrà ad operarsi, come è successo a Caluru. Quindi quello che è la nostra stagione è chiaramente contrassegnata e contraddistinta da questo problema che probabilmente è stato sottovalutato. Leggevo stamattina una dichiarazione di Pioli di marzo 2021, è trovabile su Google, la potete andare a trovare. Marzo 2021, sì abbiamo troppi infortunati ma ci stiamo lavorando, era marzo del 2021. Penso che lo potrebbe dire anche, o anzi lo ha detto sicuramente ripetutamente negli ultimi giorni e sono passati due anni, siamo ancora nella stessa situazione, anzi molto peggiore, perché a marzo 2021 gli infortuni riguardavano solo la parte muscolare, mentre qui sta diventando una costante addirittura l'infortunio tendineo. L'ho sottolineato un mese fa, seguito da nessuno. Adesso tutti lo stanno scoprendo e lo stanno capendo, però capisco, chi non ha giocato a calcio è difficile che capisca che l'infortunio al tendine è una cosa che dovrebbe essere rara per un calciatore, visto che dovrebbe avere una muscolatura pronta a sostenere lo sforzo e quindi non andando a sollecitare troppo il tendine. Capisco che chi non ha giocato a calcio magari faccia fatica ad arrivarci, ma chi fa informazione dovrebbe un minimo drizzare le antenne e fare un minimo di inchiesta giornalistica per capire, per cercare di capire come mai, almeno andare a vedere i numeri, basterebbe vedere i numeri, il Milan che ha ricorso già tre volte a questo finlandese che opera sui tendini, dovrebbe accendere la lampadina di qualcuno, ma giornalismo di inchiesta non lo fa più nessuno, ormai tutti riportano semplicemente le notizie, perché chiunque fa giornalismo di inchiesta o prova a fare inchieste viene definito un complottista e quindi questo paese va avanti così. Chiudo il video ancora con un ricordo della povera Vanessa Ballà di cui non parlerà nessuno. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, campanella per le notifiche e forza Milan sempre.